ciao amici youtube sono Dagoni69 e finalmente come promesso dal mio primo video che ormai è passato un mese ormai, si, circa un mese sono su Vanquish, gioco ormai uscito nel 2008, no no, 2010-2009 dove avrebbe essere uscito, si prodotto dai Platinum Games, quelli che hanno fatto baionetta e e cos'era, quello che è uscito qualche giorno fa a mettere via Revengers, Riesing, quello di Raiden insomma, il gioco di Raiden e questo dovrebbe essere anche il creatore della serie, oh che cazzo è successo, quella serie Resident Evil, ok, parca puttana allora, ah ecco, facciamo leggenda, no, quel cazzo è leggenda, facciamo, no, facciamo facile, perché credo che morirà tante volte in questo gioco, vabbè, Vanquish, stile Resident Evil, e cosa stavo dicendo, che ho perso il filo discorso, se in teoria dovrebbe essere il creatore di Resident Evil che si è unito ai Platinum e ha fatto sto gioco, insomma, spero non dire tante cazzate, però, in teoria è così, tanto fa, ccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccc Sottotitoli, sottotitoli, dove cazzo sono? Sottotitoli, sottotitoli Ah, è già su, sì Boh, allora forse il tutorial Sì Tutto bene, anche se la viste è un po' più usata Sì, Sam Sarò americano Passiamo ai test di funzionalità Iniziamo con la calibratura del sistema di puntamento elettroottico Cioè? Sam, ti mostrerò un bersaglio virtuale Cerca di seguirlo con lo sguardo Ok, sta tranquilla Sono un pro a guardare le cose Se le cose appaiono al contrario, fammelo sapere E regolerò i sensori dei nervi ottici Tranquilla, non c'è niente da cui Ma che palle Quante volte me lo dovete far fare questo lavoro È importante avere dei riferimenti in video Ok, letto il manuale Ma non basta Dai, fatemi insegnare come cazzo cammino quelle robe lì Eh, sì, quel cazzo che sto a leggere tutto Lasciamo così, parerò Eh, beh, ve lo dico già Ho già giocato a questi giochi Però Che test ci sono oggi Non c'è ormai passato così tanto tempo Senti, so che hai fretta di andare al bar Ma abbiamo molto lavoro Non mi ricordo neanche la storia Non mi ricordo niente, ve lo giuro Allora, eh sì, quel cazzo che faccio tutto Sto facendo un video Ehm Fammi un movimento Facciamo un movimento Procedi e dacci qualche dato sui movimenti rotatori di base Va bene, tranquillo Come che Oh, boi Oh mio Dio Che agilità Però cammina da Tipo da gobbo Non so Però fa delle capriole Mua Un magnifico capriole Ok Guarda come serve Come un capretto in calore Sì Capretto in calore Gli attuatori funzionano alla perfezione Mi servono dati sui limitatori di tutto Usalo quando sei pronto Eh, la prossima volta giocherò offline Vai Turbo Vai col turbo Oh 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 No Ho preso e l'ho mancato Quello è il carico di lavoro massimo del design attuale Si, non è che mi esploro l'armatura Porca puttana Mi ritrovo più se mi esploro l'armatura La roccia No, in torino no Sto perdendo un po' di prestazioni Specialmente negli attuatori La mobilità è giù del 30% Di quello che sto dicendo Il 30% rientra nei parametri del progetto Elena andiamo avanti Prima che Frank ci legga i dettagli del progetto Per filo e per sé Che dettagli Che cazzo ridi Non ho capito niente Ah, ecco l'ho sbagliato Vaffa culo Col turbo Ok Vai col turbo Oh L'ho preso stavolta Porca puttana Eh, sì, ciao Farò la prossima Beh, imparerò con il giocando Vaffa culo Non voglio fare tutto il tutorial Molto bene Per oggi Può bastare Bel lavoro, Sam Tutto questo esercizio Mi ha messo appetito Elena, ti va a un hamburger Sì, anche Me lo offri te però Uh, parchetto Piccioni Pecchiotto Che cammini Corre male Pi Pippe Eh sì, pippe È pelato in un game Machine No, aspetta Ecco, Shinji Mikami Mi sembra che sia Quello che ha fatto Resident Evil Che macchine di merda Comunque Che c'erano O era questo Non mi ricordo più Quello che ha fatto Resident Evil O era David Mykai Porca puttana Adesso ce l'ho Boh Forse lo Ah Wikipedia Andate su Wikipedia Vaffanculo Sì, noi usui Sì, attacco terroristico Posso tanto Makoto Su Succhicabba Succhiaabasi E il parchetto Di Rokikato Laser che ci farà Bomba nucleare O mega laser Che distruggerà Il pianeta Terra Siamo fu tutti Siete fu tutti Correte Correte via Perché hanno le megaastonavi E invece hanno delle Megaastonavi Filissime Hanno delle macchine Di merda Ok, il raccio di merda Cosa farà? Farà esplodere Tutto il pianeta Siamo fu tutti? Sì, farà esplodere Il pianeta Siamo fu tutti Oppure farà diventare Tutti osso scimmie Sì, farà Cosa farà? Eh, mi ha fatto scaricare La batteria Ecco, cosa ha fatto? Vaffanculo Adesso Dov'è il filo? Qual cazzo è il filo? Ah, eccolo qua Trovato, trovato Attaccate il filo di merda Sì, non ha fatto niente Non funziona No No Caffè Ecco, è in ritardo Ma sì, eccolo C'era un po' di lag Corri, corri ciccione Corri fa Oh, che schifo Stanno diventando zombie Oh, che macchina di merda Oh, no Eh, beh Mi fa bollire il sangue In teoria questo Mi fa Ok, gli fa esplodere Mi fa bollire il sangue E gli fa esplodere Oh, gli fa diventare zombie Guarda quant'acqua bollire Sai quanto Quanta pasta ci puoi fare lì dentro? Quintali, quintali di Che cazzo è che ho scato? Quintali, quintali di Di pasta Oh Ma t'ha fatto? No, perché cade Oh, è bell'è Perché cade il ponte? Eh Non ha toccato il ponte C'è sta solo bollendo là Oh Va bene, va bene Va, va Cioè stavo solo facendo bollire qualcosa Il raggio lì Non è che fai Zombie È uno zombie Uccidetelo Oh, è un sopravvissuto Ah no Un sopravvissuto Pompieri Chi cazzo è questo qua? Oh, ya Nicolai Nicolai non muore mai Ah, fa culo il mio accento russo Tutto un po' di vodka Vodka Rum Eserciteremo la nostra ritrovata forza Ancora una volta Questo cos'è? Esiste un solo auto Per evitare la distruzione di New York Bellato Madonna che brutto che sei Faccia una sberle Sì, sì Ti farò Faccio un culo Da una casa No È la presi Oh mio Dio La presi Oh mio Dio Io avevo votato per Obama Che cazzo senti te? Ok, per me è cattiva Perché le presidentesse Non ce l'ho con le donne Ma le presidentesse Nei film O Nei videogiochi Sono sempre cattive Non si sa perché Ma diventano cattive le donne Quando comandano uno stato Non si sa il perché Sì, sì Per me è cattiva Comunque Sì Sì La vittoria Sarà nostra Sì Se Dio benedica voi cittadini E gli stati uniti da me Per me è cattiva comunque Chi sei? Che cosa sei? Sei un gormita? Sei un gormiti Sì, c'è 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 un gormiti Mosca Ah, il più latino da Nicolai Crediamo che il capo dell'organizzazione Sia un comunista Di nome Zaitsev 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 Nikolai Per me è Nikolai Sì, io sono finita Perché figo poi? Per impedire che New York Faccia la fine di San Francesco Ecco, vedetemi Non falliremo Nel nostro Accanto Sì, non falliremo Gli faremo il culo Sì, Sam Che cazzo di astronome Gli agenti d'arma Gli agenti d'arma ricevono ordine direttamente da VOTUS e SecDef Questi tipi vogliono solo marcare il loro territorio Sam Inquadatura Non è che ho letto cosa c'era scritto nel dialogo Il governo americano è stato tradito dall'interno Mi fido solo di voi C'è un traditore Presidentessa Cattiva Presidentessa Io avevo votato Obama No Se non me lo spieghi Coglione Riporteremo indietro il professore Questo posto e persino questa armatura Sono alimentati grazie ai suoi design energetici È troppo importante perché venga ucciso Cacca di mucca Lo so L'energia pulita Cacca di mucca Questo è il vostro nuovo giocattolino? Sì, hai problemi? Mi piace C'è Basta con me lo spacchi Hai fatto un po' di pratica in questa cosa? O no? I nostri simulatori erano molto precisi Ti hanno fatto un bel lavoretto Ho un mega braccio gigante Sai, potremmo usarti come oggetto di studio alla DARPA Ah Come top del laboratorio Eh, sì, il vecchio Oh Oh, che cazzo Oh, oh Oh Uccidilo, sai me, uccidilo di cattiveria Sai me, uccidilo Che cazzo Uccidilo Ti voglio staccare la testa Sai quanto costava quella cazzo di sigaretta, coglione 6.000 euro costava, coglione Adesso me la paghi Non puoi fumare sulla nave Ma io non me lo potevi dire Senza quasi tagliarmi la testa Vecchio di merda Adesso impariamo il tuo tasto Dai Marines Andiamo Go, 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 Marines Oh, porca puttana Mi spavento Vaffanculo No, che... Ok Mi dispiace È stato bello conoscervi Ok Quindi si ricarica l'arma Ok, chiugni Ganata, ok Adesso, oh, lo uccide Oh, no, soldatino, tieniti Jimmy, Jimmy No, Jimmy No, scusa No, non vole... Oh, mio Dio, Jimmy, scusa È stato un incidente, scusa Ma che cosa... No Però non ho imparato come si ricarica Vaffanculo Scusa, Jimmy Porca puttana Che cuoretto No No, l'ho ucciso No, scusa, Jimmy Adesso lo vedi volare nello spazio Verso l'infinito e oltre Scusami, Jimmy Sì, dentro di culo Sì, sì, di culo, di culo, di culo Sì, dentro Troppo di culo ehi gu 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 marisco casco la macchina lì adesso diventa un gu助 sìñj robotini e Hill vp una cosa del gioco perchè gli americani giugnano gli umani cioè delle cose che servono a delle vite umane Invece i russi usano i robot Che puoi costruirli quanti cazzo ne vuoi Manda anche tu i robot, coglione Ma per me la posizione testa è cattiva E adesso scavo il culo Perché mandi gli umani contro i robot Manda anche te i robot Coglioni Che diavolo sta succedendo No Siamo finito Siamo finito Abbiamo appena in disperto gioco E siamo finito Sì Ti fai culo No, ti fai culo Ura, proprio dentro del cuore Ti fai culo Ho schivata la mattina Sì 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 Siamo giunici Siamo scappati Non si capisce un cazzo Dicono dove sono io Sì 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 Spada di là Spada lì Sì 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 Spada di là non lo so Sì Adesso mi spacco il timpane che scusse Eh Dove siamo qui sto qua Co 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 Ma rispondiamo Ci fa il culo Ci schiaccia Via 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 no alico il cd il casino madonna che due robottini avete una mira di merda si è deciso come sta come cazzo del fatto infirata è uscita dal culo questa arma si è tutto il senso del controllo totale di questo posto un buon non lo sono porti la cazzo del gianciato capito mi sparo però non mi ricordare tanto turbo ricordando me cazzo si ricarica e si ho capito che c'è lì se forca puttana via 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 dai come cazzo si ricarica muori ah no è un malissimo fa il culo non so che era un robot si si ho capito che c'è lì dai dai eh si muori ah mi sta facendo il culo come si ricarica come cazzo si ricarica porca puttana sto promuendo tutti i tasti alla cazzo ah sii figa ho scoperto come si ricarica che ti ha fattuto adesso però adesso devo capire dove cazzo andare dove cazzo devo andare oh figa devo andare ah dimmelo prima coglione fa il culo fa il culo ti ha il tuo fumogeno sii ho capito oh perchè il fucile è entrato nel muro di nuovo è entrato nel muro oh che cazzo è entrato nel muro di nuovo via via sbaga il gioco per carità si ho capito che sei andiamo a fallito c'è rally ahia basta boh ma vaffanculo sii 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 sono entrato c'è tuttuna è più tutta facile perchè no ho sbagliato vaffanculo prenda tutto e si 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 quanti cazzo di robot su si 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 Attenzione! Tave in fase di atterraggio! Non è che insulino adesso? Ropatina di merda! Secondo ropatina di merda! Sì! Sta venendo di tutto cos'è un'orgia! Sono solo i primi minuti di gioco! Orgia totale! Esplosione dappertutto! Beh! Prosegui! Sì! Facciamo il culo! Go! 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 No! C'è il coso qui in piedi! Che cazzo! Sì! Sì! Che proezza! Sono un mega pro! Sì! Ahia! Adesso mi fanno il culo! Lo sento! Muori! Muori! No! Aspetta che devo ritrovare! Vaffanculo! Non si capisce un cazzo! Sopra abitualmente! Muori! Sì! Sì! Dove mi dici? Sì! Ah! C'è! Proezza! Adesso dove devo andare! Su! 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 Ragazzi! Sì! Venite! Vai col culo! Su! Ho! Ha finito la missione! Ha finito la missione! Eh! Ho fatto un cazzo! Però il solo video è durato! Voto 20 minuti solo video! E' 3 di gioco! 8 minuti di gioco! Quasi adesso mi fermo un attimo! Ci sono scontri nella piazza! Bravo! Avanziamo rimanendo coperti! Ah! Bene! Ho ricevuto! Ora si fa sul serio! Si! Si fa sul serio! Di cattiveria! Nessuna ragazza me l'aveva mai detto prima! Ah! Che! Beh! Si ma non fa culo! Sono dotato io! Coglione! Eh! Si dai! Ha fatto anche il salvataggio! Beh ragazzi! Spero che il video vi sia piaciuto! Adesso! Si dai! Aspettiamo! Mi fermo qua col video! Eh! Spero che il video vi sia piaciuto! Commentate! O! Se volete! Se proprio vi è piaciuto tanto! Mettete un bel me gusta! Sul video! E basta! Ci vediamo! Con una nuova serie! Con Vencuci di nuovo! Ciao ciao!